amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di aspettandola siamo a poche ore dall'inizio di un nuovo turno la serie A torna in campo per i match dell'undicesima di andata non perdiamo tempo andiamo a presentare i nostri opinionisti le colonne del nostro canale ben ritrovato un caloroso abbraccio a Gennaro Perna ciao Andrea un saluto a tutti i nostri spettatori e un solito caloroso saluto anche ad Antonio e lo anticipi e lo introduci sempre tu mi unisco anch'io al caloroso abbraccio ad Antonio Rea ciao Antonio ben trovato un abbraccio anche a voi ovviamente agli amici che ci ascoltano su atti sport 24 Gennaro partiamo da te l'incontro di cartello di questo turno mette faccia a faccia Atalanta e Inter quale emozioni ci regalerà la sfida del Gevi Stadium allora due squadre interessanti dal punto da per quello che propongono diciamo in questo che hanno proposto in questo campionato e che hanno sempre proposto anche negli ultimi anni Gasperini sempre un allenatore che riesce a tirare fuori dalle proprie dalle proprie squadre un bel gioco solitamente degli ottimi campionati anche quest'anno ci sta riuscendo perché laddove dovesse battere battere l'Inter si avvicinerebbe ancora di più ad una zona che che già quella delle prime quattro in cui già è presente l'Atalanta però potrebbe anche ambire a qualcosina di più no il famoso eh Sogno Scudetto quindi eh un'Atalanta che ha una grandissima occasione un'Atalanta che gioca che gioca bene al calcio che sta provando a rilanciare e si è rilanciata sta rilanciando attaccanti tipo Scamacca che è un attaccante che ha trovato eh nell'ultimo turno una prestazione eccellente eh con due gol eh traverse pali e quindi una prestazione di grandissimo livello questa poi è la è la grande bravura di Giampiero Gasperini a rivitalizzare e a a rimettere al centro del progetto giocatori di indubbia classe ma che non hanno una non hanno trovato fino ad oggi una grande continuità quindi benissimo l'Atalanta e che va a scontrarsi poi con l'Inter l'Inter è la squadra abbiamo detto più volte dalla migliore rosa in questo campionato una squadra che una partita complicata come 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 quella avuta contro la Roma è riuscita comunque a venirne a capo eh tramite grandi occasioni ma tramite il gol poi di Tulam che è un attaccante che si sta dimostrando un bello valore aggiunto per questa squadra quindi una partita da risultato aperto sicuramente una grande occasione per l'Atalanta e per Gasperini ma sicuramente l'Inter è da ritenersi ancora un tantino favorita proprio per la storia che ha per la rosa che ha e per quello che riesce a esprimere sul campo quindi partita da tripla grande occasione per l'Atalanta eh leggermente favorita invece tecnicamente soprattutto in termini di rosa per l'Inter. Antonio come si svilupperà il duello Gasperini-Simone Inzachi? Allora sono due due formazioni che stanno attraversando un periodo abbastanza positivo eh l'Inter comunque è riuscita ad ottenere una una vittoria fondamentale anche se di misura contro la Roma e l'Atalanta viene da due vittorie consecutive che l'hanno rilanciata in vetta alla classifica ehm principi di gioco diciamo un po' un po' simili tra i due anche se poi l'Atalanta è quella che ti eh come diciamo spesso è una squadra che ti viene ti viene a prendere ti viene a prendere alto ti ti attacca uomo contro uomo quindi l'Inter eh dovrà essere in grado di reggere questo confronto però di contro l'Atalanta con questo baricentro alto che ti viene come dire a pressare nella 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 tua area di rigore soffre comunque le ripartenze e poi eh gli attaccanti eh dell'Inter possono fare diciamo questo gioco nel senso che sia Lautaro ma soprattutto Turam sono dei dei giocatori che vengono vengono incontro e tirano fuori eh i difensori eh Gasperini che come si diceva sono diciamo eh propensi a venirti a seguire anche nella trequarti campo avversale. Per cui si potrebbero si potrebbero creare in questo senso degli degli spazi eh dove giocatori come Mkhitaryan, lo stesso Frattesi, Barella si possono inserire ma anche perché no dalle fasce con Di Marco e Dunfris se dovesse essere loro i prescelti. Quindi da un punto di vista dell'Inter la chiave tattica potrebbe essere quella di eh come dire stanare i difensori avversari e creare spazi per gli inserimenti. Dall'altro lato Gasperini come dice si diceva eh gioca sempre sull'uomo contro uomo ragion per cui diciamo eh dovrà dovrà trovare la soluzione in avanti. La soluzione potrebbe essere Scamacca che pure lui sta attraversando un buon momento di forma che eh se la dovrà vedere con eh dei mastini tra virgolette che sono i difensori dell'Inter però in questo senso potrebbe fare il gioco di un giocatore che a me piace tantissimo che è Cupo Maines che poi è stato pure inseguito tanto dal Napolino che non è riuscito a portarlo diciamo nella sua rosa. Questo giocatore è è è tutto dalla dalla cintola in su fa tutto fa l'attaccante, fa il centrocampista, fa il mediano, svaria su tutto il fronte, ha un ottimo sinistro per cui eh creare spazi per questo giocatore sarà fondamentale. Sicuramente sarà una partita gradevole dove le due squadre non si risparmieranno. Gennaro nel posticipo della domenica sera la Fiorentina ospita la Juve che partita vedremo al Franchi. Allora andare a Firenze per la Juve non è mai non è mai una cosa semplice un un pubblico che sicuramente si farà sentire quello fiorentino e che metterà sicuramente pressione sugli uomini italiani. Una Juve che continua a non dare una grande impressione dal punto di vista del gioco però di fatto è prima in classifica e questo eh bisogna riconoscere no è secondo in classifica mentre ci sia l'Inter davanti. Sì. E però è stata è stata per qualche per forza per ventiquattro ore prima in classifica e quindi è una squadra che sul piano dei risultati sta ottenendo tantissimo. Una squadra temibile eh ben organizzata difensivamente che proverà a fare il colpaccio anche a Firenze. La Fiorentina che a Napoli sembrava essere una macchina da guerra un paio di domeniche fa e reduce invece da due sconfitte consecutive se non erro e senza segnare gol tra l'altro e quindi è una squadra in leggerissima crisi. Dovesse perdere anche contro la Juve di Allegri eh farebbe farebbe sì che che la la Juve confermasse sicuramente la sua voglia di scudetto ecco chiamiamola così ma darebbe anche una botta psicologica anche a a Firenze e anche al suo allenatore che diciamo è sempre sulla crescita dell'onda però quando deve fare sempre l'ultimo salto di qualità eh poi pecca in termini di risultati quindi Italiano è obbligato con la sua Fiorentina a fare risultato a mio parere o almeno a non perdere contro contro i bianconeri dovesse arrivare la terza sconfitta eh io continuerei a avere dei dubbi personali su questo allenatore che che è un buon allenatore ma non è ancora un ottimo allenatore a mio parere. Antonio se devi descrivere il duello italiano Allegri con due aggettivi quali sceghi? bella domanda eh lato lato Allegri sicuramente eh guardingo eh lato lato italiano direi spumeggiante ma 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 fin troppo nel senso che eh vi è una squadra che vuole vuole vestirsi da grande eh però come diceva Gennaro poi nel momento in cui deve fare il salto di qualità eh diciamo non lo fa mai eh viene da due sconfitte dopo la bella vittoria ottenuta a Napoli ha ottenuto due sconfitte e un diciamo eh in campionato che l'hanno un attimino ridimensionata. Eh è una squadra che detta detta ai tempi di gioco non non si fa come dire intimidire dall'avversario e questo certe volte può essere un un difetto soprattutto quando giochi contro squadre come quella che affronterà diciamo in questa giornata quella di Allegri che ti aspetta per poi ripartire e eh eh il come dire il l'atteggiamento col bari centro alto e la linea di difesa quasi a centro campo potrebbe essere un fattore di rischio perché eh le squadre di Allegri e la Juve in particolare sono maestre da questo punto di vista nel senso che ripartire in contropiede con gente come Chiesa come lo stesso Ken i centrocampisti che si inseriscono eh diciamo è è il loro pane quotidiano per cui eh è una partita molto delicata per entrambi la Juve per continuare a sognare in grande nonostante eh Allegri tenga i piedi per terra e parli di quarto posto ma secondo me la Juve non avendo le coppe può puntare al bersaglio grosso e la Fiorentina invece deve mantenersi nei nei quartieri alti della classifica e una terza sconfitta consecutiva sarebbe sarebbe difficile un boccone difficile da digerire. Gennaro il Milan ospita l'ammeazza l'udinese in che misura i numerosi infortuni incidono sul momento no dei rossoneri? Allora i rossoneri secondo me non hanno soltanto un tema un tema legato agli infortuni che come dici tu e come segnali tu è un tema sicuramente molto importante ma anche cominciano ad avere anche problemi a mio parere di spogliatoio. È una squadra che comincia ad avere dei dubbi comincia ad avere dei dubbi anche del proprio allenatore. Questa è l'impressione che ho avuto io dal punto di vista dopo la partita contro il Napoli sinceramente ho visto eh delle reazioni che mi sono parse non proprio diciamo ortodosse da un certo punto di vista. Detto questo l'occasione contro l'udinese è un'occasione ghiotta anche se l'udinese se non è riduce da un pareggio dopo il cambio dell'allenatore. Quindi è una squadra che proverà a tenere l'equilibrio proverà a non subire eh la diciamo la maggiore forza perché questa è da parte dei rossoneri. I rossoneri però hanno la ghiotta occasione di di ottenere tre punti hanno quasi il dovere di ottenere tre punti perché laddove non dovessero vincere si entrarebbe una crisi che ti ripeto non è soltanto di uomini e di presenze sul campo ma potrebbe essere una crisi psicologica in un ambiente come quello eh milanista che già comincia a scaricare il proprio allenatore. Quindi la mancanza di risultati e di un risultato positivo i tre punti eh domenica aprirebbero secondo me una leggera voragine delle certezze dei rossoneri che comunque sono sempre lì sopra a combattere per lo scudetto. Antonio il Napoli riparte dal derby con la Salernitana il cambio di modulo è la soluzione in grado di rigenerare i partenopei? Ma io non non sarei così come dire semplicistico nel senso che non può essere un un atteggiamento in campo cioè un cambio di modulo in campo eh tra il primo e secondo tempo ad aver eh trasformato la squadra. Secondo me c'è anche un tema di eh eh come dire di 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 applicazioni di approccio di 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 stimoli eh il Napoli non ci ha ancora fatto capire se è quello del primo tempo o quello del secondo tempo. Il Napoli non riesce a dare continuità a a quelli che sono diciamo i i tempi giocati alla grande mi riferisco anche alla partita con la Lazio per esempio no? Dove dopo un primo tempo giocato alla grandissima poi ebbe un crollo verticale quindi non si capisce. Secondo me non non è il cambio di modulo che pure potrebbe essere una soluzione eh a a cambiare diciamo a cambiare a far svoltare questa squadra anche perché questa squadra eh viene da tanti anni di quattro tre tre gli interpreti sono come dire nati e cresciuti con questo eh con questo tipo di di modulo per cui secondo me eh è l'atteggiamento in campo che deve cambiare e e anche come dire un pochettino la fase difensiva fatta un pochettino meglio. Dopodiché la partita con la Salernitana è sempre difficilissima. I Granata eh hanno hanno fatto una bella vittoria in in Coppa Italia e come come si dice in questi momenti eh vincere aiuta a vincere e quindi l'ambiente sarà quello che sarà per cui questo potrebbe essere un vero esame per per la squadra di Cassià quindi mi aspetto vi aspetto un atteggiamento da grande squadra un un approccio eh della serie io sono più forte e devo vincere la partita come fanno le grandi squadre dopodiché vedremo vedremo che succederà però è sicuramente una delle partite più difficili che aspetta il Napoli in questo campionato. Gennaro per chi pesa di più la posta in pale o nell'anticipo di questa sera Bologna Lazio? Eh sono sono due squadre interessanti perché sono due squadre due allenatori che propongono calcio sinceramente uno in grandissima ascesa come diamo come diamo Motta e è una costante diciamo che quella che conosciamo tutti quanti abbastanza bene che è quella di Maurizio Sarri per chi conta di più la posta io penso per entrambi però la la grande possibilità che ha la Lazio di dare continuità alla striscia di vittoria secondo me è una grandissima motivazione aver ottenuto all'ultimo minuto all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dei tempi di recupero una vittoria importante con il rigore di immobile da un ulteriore carica psicologica agli uomini di Sarri quindi una partita aperta sinceramente dal pronostico abbastanza complicato però io eh da amante un pochettino dei numeri e delle statistiche eh vorrei vedere ecco mi aspetterei una continuità in termini di vittoria da parte della Lazio di di Maurizio Sarri quindi vedo la Lazio leggermente favorita ma il Bologna gioca veramente bene al calcio e il suo allenatore ha le idee veramente chiare al contrario di quello che si può dire di Garziati amo molto sicuramente le idee chiare di qual è il modulo che deve adottare e come devono giocare i propri uomini. Antonio chiudo con te quali insidie presenta per la Roma la sfida interna contro il sulla Roma sulla Roma ne parliamo spesso la Roma è una squadra che che non mi convince è una squadra che può fare risultato senza convincere l'aggiungo tra parentesi con chiunque ma può anche perdere perdere con chiunque la partita con l'Inter benché sia finita con un solo col discarto è stata secondo me deprimente per per quelli che possono essere supporti a giallorossi per cui mi aspetto sicuramente una vittoria però il Lecce è una squadra è una squadra frizzante con dei ragazzi molto eh molto interessanti e dopo un inizio di stagione brillante viene da credo almeno cinque partite in cui la vittoria non non è stato ottenuto quindi eh è un po' come dire un po' un eh un terno all'otto per per la squadra di di Murigno però se la Roma non cambia atteggiamento fai se fai fatica anche contro squadre di eh basso cabotaggio come può essere il Lecce per cui eh mi aspetto come dicevo una vittoria della Roma però mi aspetto soprattutto una svolta da un punto di vista eh come dire di 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 dello stare in campo di gestire una partita e di 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 avere il pallino del gioco in mano senza senza rintanarsi per poi sperare che qualcuno lì davanti inventi qualcosa questo più o meno è il è il gioco il gioco della dell'allenatore portoghese quindi staremo a vedere se sarà così però la Roma la Roma di Murigno nonostante abbia una rosa eh notevole un attaccante come ce l'ha la Roma probabilmente non ce l'ha nessuno forse il Napoli ma è ai box per cui vi aspetto tanto di più da questa squadra e secondo me anche nell'ambiente giallorosso inizia come dire a esserci qualche qualche malumore rispetto a uno che è stato presentato come l'allenatore diciamo dei sogni l'allenatore che doveva doveva far diventare grande questa squadra che al momento è al terzo anno se non sbaglio e non non c'è ancora riuscito. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Gennaro Perna e Antonio Rea per essere intervenuti e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao ragazzi grazie. Un saluto a tutti i nostri spettatori un grande abbraccio a voi due. Mi accodo ai saluti e ci vediamo alla prossima.